Nelle nostre parrocchie, nelle nostre chiese, dobbiamo accogliere e ascoltare, senza aver paura, delle diversità, anche delle più grandi e dolorose, e mettere in comune senza discriminazioni. Papa Francesco lo ha detto e lo ha dimostrato, accogliendo e abbracciando in aula Paolo VI più di 600 disabili e i loro accompagnatori, protagonisti del convegno organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana per i 25 anni del settore per la Catechesi delle persone disabili. Lasciando il discorso scritto e rispondendo a braccio ad alcune domande, il Papa ha ricordato che le diversità sono una ricchezza, ci aiutano, ci sfidano e ci arricchiscono. Non si deve quindi mai aver paura delle diversità, anche di quelle che hanno radici in alcune malattie. Bisogna mettere in comune, stringendoci la mano, e non discriminare, non chiudere le porte della parrocchia a chi non è uguale agli altri. Tutti abbiamo la possibilità di crescere e se tu sei sordo-muto devi poter avere una preparazione con il tuo linguaggio. Un sacerdote che non accoglie tutti, ha spiegato Papa Francesco, può chiudere la porta della Chiesa, o tutti o nessuno. Padre, no, non è così. Io capisco tutti, ma non posso accogliere tutti perché non tutti sono capaci di capire. Sei tu che non sei capace di capire. Quello che deve fare il prete, aiutato dai laici, dai catechisti, da tanta tanta gente, è aiutare a tutti a capire, a capire la fede, a capire l'amore, a capire come essere amici, a capire le differenze, a capire come si complementano le cose, come uno può dare una cosa e l'altro ci dà l'altra. Questo è aiutare a capire. E tu hai usato due parole belle. Accogliere, accogliere e ascoltare.